Questa è una partita in casa contro la Cittadella, risultato di 3-0, ormai siamo a maggio, siamo all'ultima fase del torneo e questo 3-0 è firmato da Svok, Calandra e Morabito, due che non sono abituati a segnare, è vero? Comunque ritornando a Svok, è un giocatore che è interessante perché sembrerebbe di minuto poi si mette fra uomo e palla come pochi e tiene la carica, non c'è, non c'è, sposta addirittura avversari 10 kg, 15 kg più grossi di lui è un leader insomma, possiamo dire così